SEMO BESSI, DRRRR, SEMO BESSI, SK, SEMO BESSI, DRRRR, SEMO BESSI, DRRRR, SEMO BESSI, ANANIA, SEI E MENZO, bravo a respingere Tirica magari a buttare delle sottie indeparata, scetto, buttare che non ci fa rinviare che per il chiestero Ciancio Campo non l'avevo visto mai, però a fine partita si pinna e sta danno a po' pareggio il chiestero tutti l'auce, uno di noi? Peruzzi, sei, a re ritieni, chi d'intafascia mi pare che avevano mai con i Giggs, avanti vici il bello cross a più davvero, i cosi giusti, peristotti, spolli, Shinga e Menzo, Mario Nicolassa, fino a quando pigliamo gol il chiestero di Shinga e Menzo non pigli, e non delle cate mussi picchia a macchianare, punto! Jombeg, sei, a intu c'avevo pasto che in campo c'era Belen e invece c'era Belek, c'era stava così male che a fine primo tempo ci provavo con una settata in cibona senza sapere di cui era zitta, in pratica ci salvano la vita solo picchi siamo gemellati, miracolato! Monson, sei, ormai sapi che in difesa appena sbaglia la minima cosa, Sannino lo piglia a coppia e mazzotto a Roma e Dio fino a giovedì, all'attacco si faceva solo una calata, si poteva la difesa a Roao fino all'attacco e poi lo bestia a vicendio che ho tendo rito, e la cosa è da riccina accostitante per farla diventare biondo con l'occhio azzurro, solo non ha nuova la pena, lasciamolo la raccusti con me, sono già ammazzato a scuola, Capuano, sette, c'è un giocambista, tezzino, difensore, assist piccalaiondo primo tempo che avreva pillo, palle smestate che avreva Xavi Alonso, uno metto, uno metto e gioca che è in piacere, comunque, sui do diventare c'è un giocambista io posso diventare Presidente della Repubblica, impossibile is nothing, Jankovic, sei, non è del giusto, solo picchia e nico non lo facciano giocare, una cosa che ci facevano fare era barriera, quando fu sostituito stava in regano roghiando, si cammava solo quando c'era una sua calora, a GEO, Mattigno, scingh e menzo, una volta c'erano l'accolisti anonimi, ora ci sono i giocambisti anonimi, io dopo un razzo avevo potuto per fare la punta, e si riduceva a cercare di trovare pallone a giocambi, a dire una chissaccia a tu, su G Mattigno, Rosina, sei, finalmente io con l'attacco, e a più tempo racchiappare una guaglia, a poi a picca picca si rischiava sempre più a reri, a rinesce a buttare pallone avanti, solo che allora ti conchiore lo scongliore, scongliore, crasto 5, pare pare che tannicchia si impignavo, solo che di fisico di pera e di testa, ancora è a menza nasciata, poco di panchina non ci facessi male, poco lo scolacaccio manco, visto che andate grosso e menanni è più pericoloso, a ricopighiti, calaiò, 7, carusi mechi attaccante, due occasioni app, una segnale loccia sfasciao palo, tene palla, facchiana da squaccia, asus fruttassamo chiassai, asus fruttassamo chiassai, c'è un ciavantone, a Miron, esci, non si asciuppi, esci che so peri, miracolo, miracolo, Garofi 5, non so se tu fai a posto scendicato, fatto sta capizzando, dopo un tempo in regola, c'ho più bestia, 4 da 5 battiti, camorria, Saurò senza voto, c'è se chi ha fatto un gol, come Colanciano, come a Perugia, la prossima volta che c'è, si fai tocchi i baddi, vai che ti sale, Sannino, 6, non si sta una timofenda, fava andare dentro l'area tecnica, facendo il chilometro e il cirocrasto, ora Cerugno è l'attenuante, visto che ancora su tutte case scanto, non dobbiamo avere un basso accucchiato, e chi sta battita, sa vuol chiudere prima senza, finire queste difensure, tutta abbiate in cialaria, scetto, su un da squaccia Cerugno, c'è in giocambi sta cosa aiutava, bello gesto finale, quando mi va a pigliare tutti i vari, e gli mandato tutto il settore ospiti, sui rapicchetti, già se non aveva un aiuto, non da doccia, cuorendo, cuorendo, mister, ma raccomandati, chi ci scappò, tu ne sai di tu, e cerchiamo da rosbigliare, ne?